Buongiorno amici dalla Camera dei Deputati, faccio un video una volta dal mio ufficio, dal mio studio, così nel mente ve lo faccio anche vedere questo video per annunciarvi che due giorni fa il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha firmato il decreto per lo stanziamento dei finanziamenti per la videosorveglianza, 37 milioni di euro che ricavano sui nostri comuni appunto per la videosorveglianza, videocamere che monitoreranno le nostre città che monitoreranno i nostri comuni, quindi più sicurezza nei nostri comuni. Per quel che riguarda la zona del canadese sono stati finanziati i comuni di un ruolo quindi nelle provegliese, il comune di Locana in Valle Rocco e il comune di Strambinello. Prima di tutto faccio i complimenti ai sindaci di questi territori per aver partecipato a questo bando perché ovviamente è sempre importantissimo partecipare a questi bandi quando i ministeri mettono appunto la possibilità di avere risorse sul territorio. Quindi complimenti ai sindaci di questi comuni e un invito a continuare a monitorare i bandi che passano attraverso i vari ministeri. E poi ovviamente un grazie al Ministro dell'Interno Matteo Salvini per questi stanziamenti per più sicurezza sul nostro territorio. Grazie a tutti e a presto!